Ritec, la madre del rivoluzionario giunto click, impiegato nella connessione derivata, ha sviluppato il Rapid Joint, giunto diritto in gel a chiusura rapida, pronto all'uso, per formazioni di cavo fino al quadripolare da 95 mm quadri. Il gel di silicone, sviluppato in anni di ricerca e di esperienza di cantiere, morbido e di elevatissime caratteristiche, e l'involucro robusto e autoestinguente, sono privi di scadenza di stoccaggio e stabili nel tempo. L'installazione è semplicissima, rapida e non richiede particolari abilità. Il cavo viene preparato nel modo convenzionale ed il separatore centrato tra le anime. Si centra la connessione, che si blocca automaticamente, e si chiude secondo semiguscio. Si controlla che il gesto è correttamente fuoriuscito all'estremità, quindi è possibile mettere il giunto a dimora e dare immediatamente tensione. Il giunto può essere immesso in acqua a qualsiasi profondità ed essere esercito nelle condizioni più severe. Modificare la connessione, cambiare un cavo o semplicemente controllare i morsetti, basta riaprire l'involucro e riaccedere alla connessione in modo pulito e rapido. Rapido, come suo nome.